Mr. Elton è un uomo così affabile, davvero cordiale e servizievole e gentile. Io penso un gran bene di Mr. Elton. Mi chiedo come mai, Miss Pudaus, voi non siete ancora sul punto di sposarvi. Adorabile come siete. Non ho nessuno degli stimoli che hanno di solito le donne. Non ho bisogno di agiatezza, non ho bisogno di un'occupazione. E neanche di una posizione sociale. Ritengo che poche donne maritate siano tanto padrone della casa del marito quanto lo sono io di Hartford. Vi aspetto di nuovo domani. Grazie, Miss Pudaus. Grazie.